presto faccio e bene o male quello a capodire sicuro ma poi coso cos'è lì ma è impossibile se non è che buono mafio 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 ho anche del vol ah si tanto bene o male mi trovo col coso non mi trovo un cazzo tipo come si chiama col modulo mafio e poi ragazzi voi che vedete c'è qualcuno che copre il buco guardandolo aspetta sii ma stai scherzando no 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 mafio ho distrutto non ho capito ma era la sua arriva dove sei bombe? sono l'altro no 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 qui lo sto guardando ma d'olta anche dai vediamo di attirarne qualcuno non c'è una turret davanti non ho capito non ho capito ma non c'è una turret davanti bella leo bella finché guardano tutti da una parte arriva arriva beh noi non possiamo parlare di hs ma io sono l'unico che con le due al team invece spara normale mamma dottore come un assist intanto nonostante nonostante terzo mortis e due al nostro dubito no no ma ho che fausto ma hs after kill madonna del signore l'ho preso ma lui mi ha preso prima in testa no perché ovviamente lui ha 3d ping ma è molto meglio del mio e anni luce è il mio nonostante che sfortunato che sono ok 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 ma non sono davanti though nonostante certo questo tempo not eccetera che ti sei anche la tua tecnica ahahahaha stupendo eccemente la tecnica che viene Heaton i Fede se vuoi tu guardi il tank e io ti guardo... ti guardo dietro Ragazzi c'è uno al parcheggio, occhio, ne arriva uno al parcheggio Eh vabbè non è che puoi aver 100% a fuga sia Ma perchè hai portato quello zaino dalla puffo? Buonanotte Era morta domizia No lei non l'ho po', l'ho distrutto quella smitta ha spanzato Sarà il PRS o il vice Guarda Oddio Bellissima Ah prenditi il giro che va bene Non hai neanche più wide tra l'altro Aspetta Cazzo sta qua è sempre il pack davanti E' anche il... E' vabbè dai Fausto E' abbastanza Eh ho capito ma... No no è la tua destra Hai visto? No non hai sparato Non hai sparato Cazzo mai di orto Cazzo mai di orto Cazzo mai di orto Cazzo tutti Hai visto che non avevi? Cazzo Hai visto che non avevi? Non hai sparato neanche uno Ma come? Ce ne ho 18 mon Ce ne ho 8 Oddio no ti giuro non ti hai visto sparare No 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 Non ti hai sentito il rumore No no zero zero Non hai fatto ancora l'HS Oddio no no Eh vedrai dopo nel video di Federico Cazzo giuro Quando lo carica vedrai Non hai sparato eh Eh ma... Eh ma... Eh ma... Ti ricordi? L'aveva fatto anche tempo fa Fausto con la cosa... Sulla turret Sì sì Vedi eccolo No no tornati dietro tornati dietro Vai 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 mettete tutto Beh si ma... Mi spara prima No no raga hacker 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 min jogo Oddio Non verse un po' No no hacker hacker Ha proprio si 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 Guarda dove hai il mio WTC So con le due anni Sì si èrandina Poi e hacker si si ma palesemente raga Vai 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 bella fa E non muori no no è hacker proprio chilometrico più che altro per il rimpuro perché li genera te li tira tutti addosso si si spari spari dimmi si 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 a me mi è ucciso dietro il muro dov'è riportalo così abbiamo un despello in me è hacker palesemente guardalo no no hacker hacker ma dove c'è la cosa no no hacker ma proprio palesemente eh bellissimo dai mamma ma si vede che ha hacker dai c'è a me che ti arrivano ti arrivano tutti i corti eh c'è uno che non può avermi preso no no va bene no no oh quanti colpi non è possibile 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 tra parentesi mi ha tolto 46 un braccio con il suo V P90 eh insomma guarda ma non è la pistola per romperla ma non è possibile che lo fa ho capito la pistola non è possibile no che non sono andati in base no rompergli aide Aspetta Beh, non ci sono mai Vabbè, ma zitta un po' Ma zitta Per me sono andato in baseneta, l'ho detto io Stai là sopra, non stai la sveglietta Eh, le stai mai chiamando il cellulare Eh, fottuna Sì Vabbè, Fausto, ultimo secondo ci provi dai Uno, uno, eh Ma non mi interessa, madonna Una cosa incredibile Guarda No, più sulla destra Allora, uno Eccolo Vai che è morto Sinistra Eh Vabbè dai Eh, bisogna uscire l'hacker dai No, andiamo in scala, andiamo in scala, andiamo in scala No, andiamo in scala, andiamo in scala No, andiamo in scala No, no, fede No, è Valisamente hacker troppo hacker Che sfigato Eh, ma è E' bello che è un sacco in sto clan, eh La gente non si accorde E' bello il dinosaurio Non facciamo Arrivo Ahahahah Ok Ahahahah 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 Paustodimka non sta per entrare sotto Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Ahahah sì sì Solo Stiamo un dietro Ah no, ecco aspetta Sta per 3 No, ce ne andà Perchè niente Non c'è niente Non c'è niente Ma cos'è s... non c'è nessuno sarà sopra la grilla da dove mi fa che sta a me è la duret su che nappo hacker ha hacker ha i parcheggi pesantemente sta al buco qui sta al buco e io provo a rinforzare chiacchiere ragazzi dobbiamo stare attenti guarda dai dai no dai ma non si può giocare con questo qua e no ma che cazzo è uscito alla fine è uscito alla fine mamma mia no ma che roba ma si vede da chilometri eeeh che faccio sono troppo distanti per me che no e raga bisogna chiederne uno e camperare non in base in base secondo me è meglio perchè li fanno fare tutto a lui e vanno di sopra secondo me nooo devi arrivare mi ha attaccato l'hs ma muori hacker di merda io ho messo la turret in base eh uno al tank devo andare io eeeh 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 lo prendiamo lì possiamo stare fermi ehah si possiamo stare fermi così o se prendiamo un altro draw quante che la fiamo sopra? però se ci fanno uno vengo a round quindi solo in caso di pareggio vincemelo qu'è s bad?? non è sb�シero sei fermo no, uffici, uno solo, occhio, due, due, due prima di che uno mi arriva il tanto anche nei parcheggi una qua, una qua arriva, fallo venire su due qua due da Leon due qua una, non so se è sopra, è in hard fermo, non muoverti eh magari venite qua, uno no, no non so non è andato non è tornato, bello, bello bellissimo che scappo dai vieni qua a su procurarti Leo hai la turret la? si la lascio prendere, cioè io sto qua si, 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 bravissimo eh, io devo coprire qua che si diventa uno, 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 uno uno ci sa verso il tank uno ci sa verso il tank uno ci sa verso il tank si, nemesis, nemesis perché questi qua eccolo la ma come cazzo eh, a crano bella fe pochina mamma ciao ciao ok Leo dov'è? dai di senso, vai di sedante la torretta la se viene avanti lo vedi la torretta e tornate indietro pausa che cazzo vai non mi aspettavo c'era la duvet camperate, camperate va vabbè ho capito ma camperate si, si tanto ci avete la turret anche di Leo uno sta qua due uffici, due uffici uno c'è in diversi parcheggi si, si non lo devo sentire eh, diciamo non è qua ecco lo fede due uffici due uffici due uffici fede occhio che hanno rotolature tu mi sa eh bella posta bella posta dai adesso dovete controllare le sono uno ma cazzo sarà tu in giù lascialo la nei 20 secondi lascialo la e vince eh ma non ha colpi tu no minchia lascialo la tanto se se è drone non è vinta si, si, si allora io sto qua è qua è il tanko bravo team win è che a mio parere hacker pesantemente